Buongiorno cari amici telespettatori e cari amiche telespettatrici, ben ritornati al nostro consueto appuntamento mattutino con i giornali in edicola alla nostra rassegna stampa. Oggi, mercoledì 16 febbraio, scuriamo insieme le principali notizie della giornata. Due sono i punti cruciali tra le notizie in prima pagina sui maggiori quotidiani nazionali, la prima notizia è quella sull'eutanasia, la Corte dice no e quindi è stato bocciato il referendum sul fine vita da parte dei giudici costituzionali, non è prevista quindi la tutela minima per i più vulnerabili. E poi focus sulla crisi in Ucraina, la frenata di Putin, si parla di questo, Mosca annuncia l'avvio del ritiro delle truppe dal confine, ma Putin avverte è tutto da verificare. E allora, apriamo ufficialmente la nostra rassegna stampa odierna con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera che titola la principale notizia proprio sull'Ucraina. La frenata appunto di Putin. Lo zar vede Scholz, non voglio la guerra. Kiev denuncia un cyberattacco. Telefonata Draghi Zelensky. Mosca annuncia l'avvio del ritiro dal confine, ma Biden afferma è tutto da verificare. La guerra ora sembra un po' più lontana, leggiamo il richiamo. Mosca ha annunciato l'inizio del ritiro di parte delle truppe dal confine ucraino. Putin ha incontrato il cancelliere tedesco Scholz, non voglio il conflitto. Ma Kiev denuncia un cyberattacco. Telefonata Draghi Zelensky. E poi eutanasia. La Corte boccia il referendum dal 2024 gare per le concessioni balneari. Il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia non si farà. Dopo tre ore di Camera di Consiglio, i giudici della consulta hanno ritenuto che non ci fosse la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Il quesito referendario chiedeva che venisse abrogato parzialmente l'articolo 579 del Codice Penale, ovvero l'omicidio del consenziente. Questione spiagge. Dal primo gennaio 2024 tornano libere e chiunque potrà partecipare all'assegnazione di una o più concessioni balneari in base a nuovi criteri. E poi leggiamo nell'editoriale di Antonio Polito l'alibi dei troppi bonus, i costi e i benefici. Ora che abbiamo anche il bonus per lo psicologo, forse possiamo fermarci un attimo e chiederci fin dove vogliamo arrivare. Quanto ci costa e quanto invece produce Bonuslandia? Il fantasmagorico mondo in cui l'austera legge di Milton Friedman, secondo cui non esistono pasti gratis, è stata spazzata via da un fiume di denaro pubblico, travolta da una valanga di gratuitamente come nei comizi di Giuseppe Conte. Perché in realtà alla fine, come abbiamo visto con i bonus edilizi, il conto arriva e qualcuno che paga c'è, sempre lui, il contribuente. Bonus è un neologismo in politica. Fino a qualche anno fa si diceva incentivo o sussidio, sullo sfondo restava così visibile l'obiettivo, la finalità che era la crescita economica o la lotta alle disuguaglianze. Bonus ha invece una origine lessicale diversa per il dizionario e la gratifica, la buono, quello che il datore di lavoro concedeva a fine anno, quando le cose andavano bene. E per quanto l'irruzione del termine nel dibattito politico nostrano sia stata da molti messa in relazione all'utopia new age di un'era a 5 stelle, nella quale si consuma anche ciò che non si produce, in realtà la paternità spetta a Matteo Renzi. Fu lui a introdurre nel maggio del 2014, giusto in tempo per una cruciale elezione europea, l'ormai proverbiale bonus 80 euro, messo in busta paga, qualche volta addirittura con la dicitura bonus Renzi, successi al comune di Prato. E poi fotonotizia a centropagina, i giochi, l'azzurra e seconda, in discesa libera, bronzo a De Lago, Goggia, argento vivo, l'impresa più viva. E poi ancora cuore sofferenza, una grande italiana, quando quattro anni fa Sofia Goggia vinse l'oro olimpico nella discesa, un anziano pensionato milanese scrisse una lettera al Corriere. E poi andiamo avanti, si parla dei nodi, del piano del rilancio, ridare a Venezia il suo arsenale, sfida sul futuro, anche del paese. Di Antonio Scurati, leggiamo nel richiamo, discutere di Venezia significa discutere del futuro del paese. Non dovremmo mai stancarci di farlo. Venezia rappresenta infatti la quintessenza di una nazione dotata di un patrimonio enorme di storia, cultura, arte, bellezza, la cui fortuna immensa minaccia però costantemente di rovesciarsi in un destino di minorità. E poi leggiamo l'intervento di Susanna Tamaro, il rischio di finire prigionieri del Green Pass. Scrive, gentile Presidente Draghi, mi dispiace rubarle un po' del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che a questo punto il nostro paese abbia bisogno di una riflessione seria e non partigiana su quello che è successo e su quello che sta ancora succedendo. E poi apriamo la notizia della Repubblica, leggiamo la prima notizia, eutanasia, la sentenza, la Corte dice no. I giudici costituzionali bocciano il referendum sul fine vita, non è preservata la tutela minima dei più vulnerabili. Cappato avanti con la disobbedienza civile, esultano i cattolici, attesa per la decisione su cannabis legale e giustizia. E poi spiagge il governo, vara la liberalizzazione, i balneari, è uno scippo. E leggiamo nel richiamo, la consulta boccia il referendum sull'eutanasia legale perché non tutela la vita. L'associazione Coscioni, per voce di Marco Cappato, la definisce una brutta notizia per la democrazia e annuncia disobbedienza civile, esultano le associazioni cattoliche, oggi attesa per la decisione su cannabis e giustizia sulle concessioni balneari, via libera del governo alla riforma. E poi il commento di Stefano Folli, il più carico di implicazioni etiche, il più difficile da decifrare, era il referendum sull'eutanasia e titola così Prudenza, Etica e Riforme Civili. E poi ancora Biden, si parla appunto della crisi in Ucraina, si tratta, ma l'invasione è ancora possibile. Vediamo, leggiamo nell'analisi di Giampiero Massolo. Per come si è messa, con le truppe russe a un passo dall'entrata in Ucraina e l'Occidente fermo sui principi, non ci sono molte alternative al tentativo di stemperare la tensione. Troppo alta la posta in gioco per la Russia, un prezzo altissimo in termini economici. E vediamo appunto nella fotonotizia l'esercitazione, la manovra di un tank russo. E poi lo scenario, leggiamo, Rosalba Castelletti scrive la doppia strategia del presidente russo. Con una mossa da giudoca, Vladimir Putin ha sparigliato un'altra volta le carte. Alla vigilia del D-Day da Mosca sono arrivati vari segnali distensivi. E poi focus sullo sport, goggia d'argento, miracolo di Sofia, la campionessa indomabile. Scrive Alessandra Retico, un argento su una gamba e mezza, scolorito da un colpo di vento, ma è di platino considerando tutto quello che c'è dentro. E dentro c'è soprattutto il soldato Sofia Goggia, il suo inferno e la sua rinascita, la perseveranza e la tenacia, la follia creativa. E poi si parla del caso, il principe Andrea Paghe chiude la causa per le molestie. Poi ancora, odio social, la lettera aperta ai miei cari leoni da tastiera, scrive Natalia Aspesi. Pare che io abbia insultato un'intera categoria di onesti lavoratori, in questo caso i bidelli, per avere scritto che un leggiadro spettacolo di varietà come Sanremo non è un manifesto politico e quindi non capivo perché dovesse includere, del resto con molta ritrosia, vari tipi umani. E andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani, leggiamo la notizia in prima pagina della stampa. Putin allenta la morsa, non pensavo alla guerra. Il vertice con Scholz sblocca i negoziati. Draghi a Zelensky, l'Unione Europea preserverà l'integrità dell'Ucraina. Washington, la mossa chiave di USA e Germania. Alberto Simoni scrive, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ribadisce la compattezza del fronte occidentale. Ricorda Putin che la NATO e gli USA non sono una minaccia per la Russia. E poi Mosca, se la battaglia diventa ibrida, il giorno, leggiamo nel richiamo, che doveva iniziare la guerra è diventato il giorno in cui i carri armati russi hanno iniziato a tornare a casa, almeno sugli schermi televisivi. E poi il vertice tra Putin e Scholz sblocca i negoziati in Ucraina. Mosca inizia a pensare al ritiro delle truppe. E poi si parla dei maxi aumenti, bollette, la stangata luce più 131%, gas più 94%. Arriva quindi la stangata sulle bollette rispetto al 2021, la luce è rincarata del 131% e il gas del 94%. Volano i prezzi di benzina e diesel. Andiamo avanti con la lettura della seconda notizia sulla stampa, la scelta della consulta, fine vita, mai. I giudici dicono no al voto popolare. Welby stilettata al cuore, letta, ora il Parlamento approvi una legge. La Corte referendum è inammissibile, non tutela l'esistenza umana. Englaro, Paese più avanti della politica. E allora leggiamo nel richiamo. Sono state sufficienti due ore di discussione tra i giudici costituzionali per decidere che il referendum sull'eutanasia non è ammissibile. Mina Welby, una stilettata al cuore, Enrico Letta, ora il Parlamento approvi una legge. Leggiamo nell'analisi. L'autorità di Stato è libera volontà. La inammissibilità disposta dalla Corte Costituzionale del referendum sul fine vita provoca rammarico, ma non molta sorpresa. E poi leggiamo il commento di Luigi Manconi. Adesso l'eutanasia sarà clandestina. La sentenza della Corte Costituzionale sul fine vita produrrà fatalmente l'effetto di incentivare l'eutanasia clandestina. E poi uno sguardo anche all'economia balneari. Gare dal 2024 legate agli investimenti. Stop al caro ombrellone di Niccolò Carratelli. E poi il dibattito con i privilegi perduti sulla riva del mare. Alessandro De Nicola scrive, dopo decenni di rinvii, il governo attuerà la direttiva europea sulla liberalizzazione dei servizi del 2006. Dopo i provvedimenti di antitrust, Commissione europea, sentenze di Corte di Giustizia, Corte Costituzionale, Tare, Consiglio di Stato, la foresta pietrificata del regime delle concessioni balneari, scricchiola. Ed infine l'intervista a Carfania, il sovranismo nemico del centrodestra di Luca Monticelli. E poi andiamo avanti con la lettura dei nostri quotidiani. Leggiamo la prima pagina del giornale della conferenza episcopale italiana Avvenire, che titola la notizia in prima pagina proprio sul confine della vita. La consulta è inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente. Così verrebbe violata la tutela costituzionale delle persone deboli e vulnerabili. La conferenza episcopale italiana afferma maggiore attenzione a chi è in condizioni di fragilità. Dai giudici una netta bocciatura al quesito. Tutti i partiti rilanciano adesso la legge sul suicidio assistito all'esame del Parlamento. Foto notizia a centro pagina. La crisi. La Russia annuncia il ritiro dal confine ucraino dettando le condizioni. Girandola di colloqui. Biden afferma rischi di invasione ancora alti. E quindi si guarda i primi segnali di disgelo. Putin ma Kiev resti fuori dal Nato. Nè guerra né pace. La sentosi di un quotidiano moscovita fotografa gli annunci russi su un possibile parziale ritiro delle truppe russe dal confine. E' stato lo stesso Putin a indicare la mossa facendo tirare un sospiro di sollievo al mondo intero. Biden non si fida ancora. Ritiro da verificare. La Nato Mosca deve richiamare uomini e mezzi. E allora andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani. Leggiamo la prima pagina del Sole 24 Ore il giornale di Confindustria che titola la notizia principale sullo smart working facile anche da aprile. Smart working semplificato anche dopo il 31 marzo quando scadrà la normativa sperimentale che durante l'emergenza Covid ha consentito alle imprese di ricorrere al lavoro agile con decisione unilaterale e con un regime semplificato per le comunicazioni. Si dovrebbe tornare alla procedura ordinaria ricorso all'accordo individuale con il lavoratore ma su richiesta delle parti sociali. Il ministro Orlando intende confermare il meccanismo semplificato consentendo ai datori invii massivi delle comunicazioni. Quindi appunto si parla dell'occupazione, il piano con cui il Ministero del Lavoro prepara il taglio delle procedure e quindi via libera le comunicazioni semplificate quando sarà finito lo stato di emergenza. E allora bollette, l'anno orribile per imprese e famiglie, luce più 131% e gas più 94%. Si parla dello shock energetico. Venerdì il decreto legge sui rincari energetici con un'ulteriore sterilizzazione degli oneri di sistema e un potenziamento dei bonus per le famiglie meno abbienti. Per l'arera nel primo trimestre 2022 rincari del 131% per la luce e del 94% per il gas su base annua. E allora fotonotizia a centropagina, balneari, gare dal 2024 e tutele alle piccole e medie imprese. Approvate all'unanimità dal governo le nuove regole per le concessioni dei maniali. E si parla anche di siderurgia, acciaio, big europei ai massimi, ex silva con il freno a mano tirato. E adesso leggiamo l'edicola del sud. Professore Orco adescava gli studenti, si parla di cronaca, arrestato quindi il professore di 51 anni barese che avrebbe prima tirato a casa propria, poi abusato e infine ricattato alcuni suoi ragazzi. E poi ancora la ricerca dell'Università di Bari, l'inquinamento aumenta, il rischio del Covid. E ancora premiata dopo 25 mila vaccini, Antonella Spica. E allora andiamo avanti nella nostra rassegna stampa, leggendo la prima pagina del messaggero che titola la notizia principale sull'eutanasia, no al referendum, la Corte Costituzionale respinge il quesito sul fine vita, non tutela i più fragili. Cappato ci resta solo la disobbedienza civile. Oggi decisione su giustizia e cannabis. La Corte Costituzionale ha quindi deciso su uno degli otto quesiti referendari, quello sul fine vita, è inammissibile, vulnerabili, non tutelati. E poi ancora crisi in Ucraina, prove di dialogo. Putin promette il ritiro. Biden, vigileremo sulle loro truppe, sì, ad accordi scritti. I segnali di distensione ci sono, per la Russia sarebbero state richiamate truppe, ma per Biden la minaccia di guerra rimane una forte possibilità. Gli USA disponibili a intese. E poi si parla ancora degli aiuti alle famiglie, caro Bollette, ecco i prezzi calmierati per salvare le aziende, costi giù del 50%, l'esecutivo cerca 2 miliardi. Poi ancora balneari, tutele per le imprese familiari, spiagge, concessioni a gara nel 2024, tensione nel governo, ma voto unanime. E poi si parla di sanità, si cambia il piano Zingaretti per 60 centri a Roma, il governatore del Lazio al messaggero TV primarie, per scegliere il mio successore. Andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani. In mattino, titola la notizia in prima pagina, sulle spiagge, fine delle rendite, freno al caro Ombrelloni, concessioni in gara dal 2024, tensioni in consiglio, ma Draghi tira dritto, caro Energia, sconti alle imprese, fino al 50%, caccia ai fondi per le famiglie e poi eutanasia, il referendum non tutela la vita, la consulta ha bocciato il quesito, è inammissibile per i vulnerabili. Oggi tocca a magistrati e cannabis. Fotonotizia a centropagina, Ucraina, si apre la trattativa tra i sospetti. Putin, non voglio la guerra. Biden, ritiro non verificato. Anche l'Italia nella trattativa diplomatica per la pace in Ucraina. Draghi ha sentito Zelensky di Maio in missione a Mosca. E poi si parla di Napoli, i clan riciclano i soldi negli asili nido. Un pentito svela gli investimenti dei contini, piscine e scuole private per ripulire il denaro. E allora andiamo avanti. L'altra voce dell'Italia, il quotidiano del sud, diretto da Roberto Napoletano. Il coraggio di cambiare che salva il paese. Draghi rompe il tabù in gara. Le concessioni balneari. Vince chi fa investimenti e abbassa i prezzi. Leggiamo nel richiamo. Non è un riequilibrio tra operatori in un mondo immobile, intermediato da una politica senza futuro, ma un vantaggio finale concreto al consumatore, determinato dalla libera concorrenza e dalla buona politica che la vuole e rispetta, chi ha già investito e dà lavoro. È quello che bisogna fare anche per taxi e trasporto pubblico locale. È quello che si è fatto e ancora di più si deve fare su una giustizia civile, penale e pubblica amministrazione. Bisogna avere il coraggio di tornare a produrre più gas, più rinnovabili, più eolico, uscendo dal blocco mentale dei veti italiani e facendo anche qui l'esatto opposto di quello che una politica demagogica ha costretto l'Italia a fare. Il mondo non si ferma e se ne frega del sondaggio che dà mezzo punto in più alla Meloni. Gli italiani vogliono vedere il cambiamento e hanno fiducia in Draghi. E poi leggiamo Cipes, Cantieri per 6,3 miliardi. L'83% apre nel mezzogiorno. Via Libra ai fondi di coesione 2021-2027. E poi concorrenza, spiagge si cambia, si lavora sulle bollette. Il governo ha avviato la rivoluzione in spiaggia per combattere il caro Ombrelloni mentre si prepara a intervenire contro il caro bollette. Poi, super bonus, 11.600 nuove imprese iscritte senza un solo dipendente. L'inchiesta, il caos del 110% nell'edilizia. Poi si parla di PNRR, di Ercole in calza. L'illusione dei dati, troppo, troppo ottimistici. Il Cresme ha pubblicato i dati sull'avanzamento delle opere pubbliche. Un documento che il ministro Giovannini ha consegnato a Draghi. Ed infine il rapporto Open Police. Abbandono scolastico. Piaga del Sud è solo uno su quattro. Trova un lavoro. Ed è questa la nostra ultima notizia odierna. La nostra rassegna stampa termina qui. Grazie per aver prestato la vostra attenzione anche questa mattina. L'appuntamento si rinnova domani. Nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi della nostra emittente.